Posso rubargliela? Grazie Non sembra molto felice di vedermi Lei non era un recluso? Ho avuto voglia di aria fresca Perché non ha chiamato la polizia? Ho un amico potente che si occupa di cose del genere Non è un abito un po' vistoso per una... Gattaladra Trova? E lei? Chi finge di essere? Bruce Wayne, eccentrico miliardario Chi è il suo accompagnatore? La moglie è Ibiza, ha lasciato quei diamanti però Era preoccupata che gliele rubassero Si pronuncia Ibiza Non vorrà che si accorgano che una ladra è non una rampicatrice sociale? Credi che mi interessi che cosa pensano in questa sala di me? Dubito che le interessi di cosa pensino di lei in qualunque sala Non faccia il superiore, signor Wayne Lei non sa proprio niente di me Beh, Selina Kyle So che arriva da una piccionaia nella città vecchia Un posto modesto per una super ladra Quindi lo sta mettendo da parte per la pensione O... Ha pestato i piedi alle persone sbagliate Lei non può giudicarmi solo perché è nato nella camera padronale di Wayne Veramente sono nato nella sala Regents Io ho iniziato facendo quello che dovevo fare Ma una volta che fai quello che devi Non ti lasciano mai più fare quello che vuoi Ricominci da capo Non esiste ricominciare nel mondo di oggi Qualunque dodicenne con un cellulare può sapere cosa hai fatto Ogni nostra azione è documentata e archiviata Rimane tutto È così che giustifica i suoi furti Prendo quello che mi serve da chi ne ha più che in abbondanza Non approfitto delle persone che hanno meno Robin Hood Farei di più per aiutare gli altri della maggior parte dei presenti O di lei Non le sembra di essere un po' troppo presuntuosa? Forse lei si illude troppo su quello che ha veramente nei pantaloni oltre il portafoglio Hai Quanto pensa che possa durare? Sta arrivando una tempesta, signor Wayne È meglio che lei e i suoi amici vi prepariate al peggio Perché quando arriverà Vi chiederete come avete potuto pensare di vivere così alla grande Lasciando così poco per tutti noi Sembra che lei non aspetti altro Io so adattarmi Quelle perle stanno meglio su di lei che nella mia cassaforte Però non posso lasciargliele Lei l'ha fatta scappare Lo escluderei Grazie a tutti Grazie a tutti